Il criminale Warimashi è fuggito dalla custodia. La ricompensa per la sua cattura monta a 100.000 Joule. Magari affronterò quel Warimashi. Il criminale Warimashi... E va bene, Neo-Edo. Porta da me i cattivi. E tu ti credi un grande samurai? Ti faremo affette come un robot agricolo che raccoglie i broccoli. Trovo le vostre metafore agricole prive di significato. Ora si combatte. Ikuso! Usagi esce vittorioso. E come c'era da aspettarsi, non può andare meglio per il grande samurai. Riceve il potere della pietra ki. Per combattere gli yokai, Odokuro, lo scheletro yokai. Kara Sutenho, la cornacchia yokai maestra di arti marziali. Tsuchigumo, il ragno yokai. Io sono il distruttore degli yokai!